Ciao a tutti, mi chiamo Frenci e sono qui per insegnarvi a cambiare o reimpostare la lingua del vostro menù sul DVD. Per cominciare, accendete il vostro lettore DVD e inserite il DVD. Io lo farò con il DVD di Spider-Man. Come vedete, compare il menu in inglese. Per cambiare lingua, bisogna seguire i seguenti passi. Primo, schiacciate il tasto Setup del vostro telecomando. E vi farà vedere tutte le impostazioni su questo lettore DVD. Selezionate la voce Menu Disco e selezionate la lingua desiderata, nella quale volete impostare il menu iniziale. In questo modo, dovremmo selezionare la lingua italiana. Per tornare al menu iniziale, premete il tasto Play a forma di triangolo, con la punta verso destra. Ed ecco qui che avremo il menu del DVD in italiano. Questo procedimento funziona per la maggior parte dei DVD moderni. Per quanto riguarda quelli prodotti prima del 2005, è molto difficile cambiare la lingua del menu. Se funziona, allora lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e condividetelo sui social. Bene, per quest'oggi il video termina qui. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti voi. Ciao!